E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, domani vi aspetto in live ore 21, devastate di like questo video e guardatevi i video fatti di commento alle altre partite e poi noi ci ribecchiamo direttamente domani sera in diretta. Allora ogni volta che guardo la Roma o perde o pareggia, quindi continuerò a guardarlo. Sto scherzando però fattualmente succede questo, specialmente quest'anno e le romane non vogliono proprio saperne di ingranare. Ma mentre per la Lazio è un discorso di calciomercato, perché la Lazio dopo l'addio di Milinkovic Savic con la Champions incombente ha fatto un calciomercato veramente per me che lasciamo perdere, che lasciamo perdere. Per la Roma invece questo secondo me non è assolutamente valido ed è un mero, un mero discorso, un mero discorso di gioco assente, una squadra che non è assolutamente secondo me valorizzata e che non si esprime per quello che potrebbe essere il suo livello. Ragazzi la Roma c'ha una squadra quest'anno che voglio dire analizziamo solo a livello tecnico, a livello meramente tecnico. Cioè c'è in campo gente come Dybala, Paredes che comunque a livello di piede mica si butta via, El Sharawi, Spinazzola, Ndika, Zaleski, Lukaku. E fai questa fatica qui a fare gioco e a fare punti e a fare punti, cioè tu dovresti essere a mordere le caviglie per il quarto posto ma con una ferocia, con una determinazione, con una qualità e con risultati totalmente diversi. Ma stiamo scherzando, ma è una squadra questa qui che non voglio dire con uno spalletti, non arrivo a tanto, ma anche banalmente con un Antonio Conte, con un allenatore un po' più capace di aggiungere qualcosa. Ma questa sarebbe una squadra che veramente darebbe del filo da torcere a tutte, a tutte, ma in piena zona. Invece quanti soldi prende l'allenatore qui della Roma? Quanti soldi prende? 7 milioni? 7 milioni all'anno per vedere una squadra con queste qualità tecniche qui giocare a lancioni? A lancioni? Perché parliamoci chiaro, la Roma fa solo, riesce a fare solo lancioni, lancioni! Il primo tempo della Roma erano 7 milioni, sì, ma di lancioni e non all'anno, a partita. Ma stiamo scherzando, ma qua l'unica cosa che a me viene da salvare questa sera, per cui la gestionalità della squadra non ha alcun merito, ma è una comorbidità. È Lukaku, Romelone nostro, Gaza. Perché? Perché ve l'ho portato io oltretutto. Ma a parte questo, è anche simpatico il buon Romelu, ha un atteggiamento positivo, propositivo, vorrebbe far qualcosa. A volte ci fa anche delle facce che mi viene quasi da dire che pensa, ma dove cazzo sono capitato a livello di gioco. Però Romelu ci sarebbe, Lukaku ci sarebbe, Lukaku c'è. Lukaku ti dà un'arma importante. Ma non puoi anche lui servirlo solo a lancioni. Quanti ragionamenti palla a terra avete visto fare alla Roma stasera? Di cui beneficerebbe anche Lukaku, perché Lukaku più che uno a cui lanci la palla nell'area bosta, è uno che un minimo di gioco palla a terra. In ripartenza strutturaglielo addosso. Manco quello? Manco quello si riesce a fare? Manco un cazzo di gioco palla a terra? Ma stiamo a scherzare, ragazzi? Ma io veramente, io a volte mi chiedo ai tifosi della Roma che partite guardino, che campionati guardano. Perché se fosse la mia squadra a vivere una situazione del genere, che c'è un roster, una rosa di questo livello, con tutto quello che è costato costruirla, con il rischio anche economico che stai compiendo, a mettere in campo giocatori di sto tipo con certi stipendi da due o tre anni a sta parte. Ma io sarei con l'acqua alla gola a vedere queste cose che succedono e a dire ma a me è possibile che io devo pagare un allenatore all'anno così tanto per vedere sta cosa? Ma cosa hai bisogno per avere un po' di competitività, per vedere un po' di, non voglio dire un po' di gioco, un po' di efficacia, un po' di situazioni di gioco normali, stiamo scherzando. Questo è un pareggio più che meritato, con un buon toro, che attenzione che se... Il toro di quest'anno è una variabile interessante, che è quella di Zapata, perché se Zapata sta bene fisicamente, se Zapata ingrana, se Zapata ha continuità, è una variabile bella pesantina rispetto ai torini degli ultimi anni, che erano sempre spuntati, a cui mancava sempre il centravanti. Con uno Zapata in forma, il toro qualche soddisfazione se la può togliere quest'anno, complice magari se qualcuna delle più quotate a livello europeo può steccare. Occhio a questo Torino, squadra che se Zapata sta bene è interessante. Poi certo, qualcosa in più da Bellanova me l'aspetterei, non che abbia mai stravisto questo giocatore. Però, insomma, ok, l'Inter, giustamente, secondo me, non ti ha riscattato al Torino. Dovresti, non voglio dire, mangiare l'erba del campo, però quasi. Insomma, ti si aspetta la consacrazione. Cioè, Bellanova deve rendersi conto che se vuole rimanere a certi livelli, quest'anno deve essere il suo anno. Poi Milinkovic-Savic, a me come portiere, non dà la benché minima traccia di sicurezza, assolutamente. Poi, però, accettuato questo, la squadra ha anche delle belle individualità e Zapata può essere quello che finalizza anche una certa mole di gioco interessante. Oggi ho visto comunque una squadra che è rimasta in partita fino alla fine, che ci ha creduto, che ha fatto i cambi anche osativi da parte di Juric, che ha messo in campo, però ha risultato meritato, così come meritato, al contrario, per la Roma. Poi dalla Roma ho visto anche certe prestazioni individuali che non mi sono piaciute, innesi. Ecco, se io dovrei dare delle attenuanti, ma che attenuano fin lì, alla Roma, dico che non si può sostituire Matic con Paredes, proprio per caratteristiche, e che di esterni migliori di Christensen, al di là di un assist evenemenziale, ne trovavi, voglio dire, credo io, in un ruolo poi fondamentale, perché se tu vuoi fare questo schema qua, 3-5-2, 3-4-2-1, gli esterni a tutta fascia devono essere performanti. Poi per il resto, anche Zaleschi è entrato male, non mi è piaciuto Spinazzola, indica molto in difficoltà su Zapata, anche alcuni elementi un po' troppo nervosi, Dybala abbastanza avulso quest'oggi, però ripeto, è una questione di gioco, io non credo che sia normale che una squadra che ha speso tutto quello che ha speso, che ha dei giocatori che io prenderei una carriola e ci riempirei la carriola di giocatori da portarmi a casa, e credo tantissimo, perché proprio stavo vedendo la partita e stavo ragionando, voi pigliate la rosa della Roma e fate il confronto tra la rosa della Roma e la rosa della Juve, siete così poi sicuri che sulla carta, sulla carta, ad oggi, e today, la Roma sia tanto più scarsa della Juve? Io no, io no, sarà che quest'anno siamo lucachiani-allegriani, e quindi diciamo questo, perché è giusto così, ma a parte gli scherzi, questa è una squadra che potrebbe fare molto di più, se strutturasse un po' di più uno straccio di gioco, uno straccio di manovra, uno straccio di capacità di tenere la palla a terra, di, non voglio dire, fai due-tre triangolazioni, due-tre sovrapposizioni tra esterno e terzino, due-tre triangoli che permettono a Lukaku quando riparti di ska, oggi era tutto un lancione, tutta una palla lunga a cercare Lukaku, che poi, ripeto, non è neanche uno che devi cercare palla lunga, lui bravo anche, ripeto, merito a Lukaku, l'unica positività di questa Roma è Lukaku, perché? Perché è appena arrivato, perché a questi livelli ti sposta gli equilibri, perché è forte di suo, e tutto, ma state tranquilli, che se continui a giocare così, prima o poi o faticherà o si romperà i coglioni anche lui, comprensibilmente, perché anche oggi Lukaku la partita se l'è costruita, non è che gliel'hai calzata addosso, e molto spesso alla Roma vedi fare questo, c'è gente che la partita se la deve andare a risolvere da sola, con intuizioni del singolo, con giocate dei singoli, perché di base, di per sé, di sostrato, di gioco, c'è quasi niente, e questo è ingiustificabile se vedi il costo di questa squadra, proprio ingiustificabile, nel senso più ampio del termine, se vedi quello che è il costo di questa squadra, e di quelle che possono essere le legittime ambizioni di questa squadra qua, ragazzi. Ma la davate? Ma non voglio dire Spalletti, che probabilmente con una rosa così gli dai tempo qualche mese te la porta a essere competitiva per lo scudetto, ma qualsiasi altro allenatore, anche con idee di gioco meno propositive di base, ma non puoi, è tutto un lancione, tutto un lancione, ma cosa devi fare? Ma non puoi andare avanti per inerzia, sempre basandoti sul singolo, ok? Poi vinci la partita contro la piccola, ma la Roma deve essere chiamata... Guarda, poi non è un discorso, smettetela col credere che sia un discorso, poi vedi che vanno a prendere per il culo De Zerbi, cioè, permettetemi anche i romanisti che vanno a prendere per il culo De Zerbi, vi commentate da soli, perché se vedo il lavoro che ha fatto De Zerbi al Brighton in sto anno, quello che ha fatto Mourinho in tre, siamo al sole e alla luna, e la luna non è certo De Zerbi, quindi voglio dire... Vabbè, lasciamo perdere, ciao!